Allora eccoci qui a Desenzano in questo dicembre 2018 con la comunità di Fossa Caprara, con la comunità della Sburla alla Roda, uno dei giochi tradizionali che si sono raccontati, anzi una delle comunità ludiche tradizionali che si sono raccontate oggi qui a Desenzano perché? Perché siamo partiti per una grande avventura, che è un'avventura di ricerca, di conoscenza ma anche di rete, di forte rete fra le comunità ludiche partendo da regione Lombardia che ha legiferato in merito al patrimonio immateriale ed ha creato uno spazio di ricerca nuovo e innovativo sul gioco tradizionale. Il gioco tradizionale non soltanto in quanto gioco e patrimonio isolato ma quanto patrimonio di una comunità intera. Il caso della vostra comunità è un caso particolarmente eloquente perché è proprio in qualche modo il gioco che ha creato e ha costituito un movimento per il benessere della comunità, per una rivitalizzazione della comunità. Il gioco, anche il cibo e quindi ecco siete diciamo un esempio molto forte, molto eloquente di quanto la creatività che nasce dalla memoria possa dar luogo a processi virtuosi di salvaguardia del patrimonio ma non per il patrimonio in sé, per il benessere delle persone e delle comunità. Ecco quindi un grande ringraziamento per essere qui, per essere venuti, per far parte di questo movimento e ad aiutarci a crescere tutti quanti. Oggi eravamo otto comunità del territorio Lombardo, l'idea è quella di continuare sia in Lombardia che su altre regioni questo processo che è di ricerca ma è anche di progettazione del futuro. Quindi do volentieri la parola al rappresentante di regione Lombardia che è qui con noi Renata Meazza che è l'iniziatrice in qualche modo di questo progetto di studio, di ricerca, di salvaguarda del patrimonio ludico tradizionale in Lombardia. Grazie, Regione Lombardia attraverso di me è molto felice di aver partecipato a questa giornata di presentazione dei primi risultati di questa ricerca sul territorio Lombardo, in particolare ringrazio la comunità di Fossa Caprara, la comunità di gioco che ci ha mostrato tutto l'entuzione entusiasmo e tutto l'interesse che hanno a continuare a mantenere vitale questa loro tradizione. Perché Regione Lombardia cofinanzia progetti di questa natura sul patrimonio culturale immateriale? Perché ha deciso già da alcuni anni di perseguire questa nuova strada di valorizzazione delle tradizioni, ma non più come si potevano intendere diciamo qualche tempo fa, ma si parla di tradizioni viventi. Quindi tutto l'interesse di Regione Lombardia nel confidenziare questi progetti è quello di farli continuare, quindi di renderli sempre più vivi, di renderli interessanti per i giovani e quindi di operare non solo sull'aspetto della ricerca e quindi della conservazione di documenti eccetera che è un po' il nostro diciamo primo amore, chiamiamolo così, ma anche quello di perseguire delle politiche di salvaguardia. Oggi abbiamo avuto una dimestrazione fantastica di come questo sia possibile perché solo attraverso la partecipazione delle comunità questo lo rende appunto possibile e quindi come dire rientra proprio nelle politiche di Regione Lombardia degli ultimi anni quello di rendere le comunità protagoniste di questa operazione di valorizzazione culturale. Come Festival Toccati abbiamo conosciuto la comunità di Fossa Caprara qualche anno fa, siamo stati da subito favorevolmente colpiti e coinvolti dal completo coinvolgimento di questa festa che si svolge ogni quarta settimana di agosto del completo coinvolgimento di tutta la comunità di Fossa Caprara e penso che un'operazione come quella che si sta facendo attraverso un gioco sia assolutamente in sintonia con quello che al Toccati noi facciamo da qualche anno e non a caso Sborla la Roda è stata ospite più volte al Festival Toccati. Grazie